Qualcuno dello staff della Casa Bianca dovrebbe informare il Presidente Joe Biden che purtroppo la regina d'Inghilterra Elisabetta II alcuni mesi fa è venuta a mancare. Anzi, qualcuno dello staff della Casa Bianca dovrebbe informare il Presidente Joe Biden che lui è lui il Presidente degli Stati Uniti d'America. Cosa è accaduto? Guardate, io non voglio infierire ma è accaduta una cosa davvero singolare. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha terminato un comizio tenuto nel Connecticut con il tradizionale motto dell'inno britannico God Save the Queen, Dio salvi la regina. Certo, sappiamo tutti che la regina Elisabetta II ha stabilito un record, è stata regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per oltre 70 anni. Quindi ci eravamo un po' abituati ad ascoltare l'inno inglese e terminare con le parole God Save the Queen. Tuttavia ora sul trono c'è il figlio Carlo, quindi eventualmente si dovrebbe dire God Save the King. Ma a parte questo, sentire terminare il discorso dal Presidente degli Stati Uniti d'America con le parole God Save the Queen, insomma, è proprio esilarante. La Casa Bianca ci ha messo un po' per giustificare quella che i giornali mainstream si affrettano a derubricare come una gaff. Purtroppo, cari ascoltatori, io lo dico con ramarico, non si tratta di una gaff. I media mainstream infatti utilizzano tutti il termine gaff per giustificare questi svarioni di Biden perché questo termine, il termine gaff è un termine simpatico, ma non solo, è un termine che non si collega ad una qualche mancanza. A tutti è capitato nella vita di fare almeno una gaff, anche alle persone giovani e mentalmente dinamiche. A volte una gaff crea illarità, non solo imbarazzo, ma dicevo che la Casa Bianca dopo un bel po' ha voluto precisare che il Presidente aveva, porto le parole precise, fatto un commento con qualcuno fra la folla. Ebbene, io credo, insomma, sono convinto che alla Casa Bianca sia stato istituito un team di esperti in comunicazione, un team che ha proprio lo scopo di trovare una giustificazione ad ognuna delle ormai immancabili gaff, chiamiamole così, del Presidente Biden. Io mi immagino quando è arrivato alla Casa Bianca la notizia che Biden aveva terminato un discorso politico con il motto God Save the Queen. Questo team di esperti si sarà immediatamente riunito per cercare di trovare una giustificazione a quanto diciamo a quanto detto dal Presidente. Ovviamente un motto simile non poteva essere messo in relazione con il discorso tenuto da Biden. Quindi qualcuno avrà proposto così di giustificare quello strafalcione con qualcosa che non avesse alcun riferimento al discorso di Biden. E così si è deciso per un commento con qualcuno tra la folla. La realtà invece qual è? È semplice. È usuale per i politici statunitensi chiudere un discorso con le parole God Bless America, il cui significato è Dio benedica l'America. God Bless America è il titolo di una canzone patriottica estremamente popolare negli Stati Uniti, scritta nel 1918 quando la Prima Guerra Mondiale era ancora in corso. In pratica, tanto per capirci, insomma, God Bless America è un po' l'equivalente della nostra canzone del piave. Quindi Biden intendeva terminare il discorso appunto con le parole God Bless America, invece ha detto God Save the Queen. Naturalmente la verità dei fatti avrebbe alimentato per l'ennesima volta il dibattito sulle capacità cognitive dell'attuale Presidente degli Stati Uniti, capacità cognitive che molti mettono in discussione. Quindi questo team creato appunto per giustificare tutti gli strafaccioni di Biden, di fatto ha proprio lo scopo di non alimentare appunto questo dibattito che negli Stati Uniti comincia invece a prendere piede. Anche molti democratici, infatti non solo gli avversari repubblicani, anche molti democratici nutrono seri dubbi sulle piene capacità cognitive del Presidente Biden. Purtroppo sappiamo che non esistono rimedi, non c'è una pillola, un farmaco, l'eternità non è una condizione umana. Ripeto, io sono fermamente convinto di questo, ormai sono talmente tanti gli esempi che si potrebbero portare, ma insomma ricordo solo il più recente, quando alcune settimane fa il Presidente Biden si è recato in Irlanda. Ebbene, parlando di un suo lontano parente che aveva giocato nella nazionale irlandese di rugby, ha ricordato quando l'Irlanda vinse per la prima volta, per la verità le parole precise di Biden furono, gonfiarono come una zampogna, attenzione, i black and tense, ovviamente il Presidente Biden intendeva dire gli all blacks, ossia la mitica nazionale neozelandese di rugby. I black and tense non hanno nulla a che vedere con il rugby, anzi si tratta di un reparto militare britannico, noto tra l'altro per aver terrorizzato la popolazione cattolico-irlandese dell'Alstern, insomma nella sanguinosa guerra, il conflitto nord-irlandese. Quindi possiamo dire senza tema di smentita che Biden ormai spesso confonde i nomi, non dando così un messaggio diciamo rassicurante sulle sue capacità cognitive, insomma mettendo in dubbio che egli possa guidare ancora gli Stati Uniti d'America. Certo sappiamo tutti che non è lui alla guida degli Stati Uniti d'America, tuttavia innegabilmente, mediaticamente rappresenta gli Stati Uniti d'America. Trump dal canto suo deve anche essere prudente ed in effetti i suoi attacchi nei confronti di Biden fanno leva non tanto sull'aspetto mentale quanto sulla corruzione. Un'accusa che giorno dopo giorno trova sempre maggiori conferme, un'informativa che l'FBI ha confermato e poi ci sono anche accuse di riciclaggio, ma comunque non dimentichiamo che la Costituzione americana prevede esplicitamente il reato di corruzione fra quelli che possono portare all'impeachment del Presidente. Insomma non siamo neppure sicuri che Joe Biden possa presentarsi candidato alle prossime elezioni presidenziali.